segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te no ma ho ascoltato per circa 25 minuti su 50 le affermazioni di del censurato grimaldi e e quindi insomma adesso adesso in pochi minuti in pochi secondi cerchiamo di dire qualcosa altro e no è chiaro che un approccio di buoni e cattivi non esiste perché in politica non c'è il buono e il cattivo e non ci dovrebbe essere neanche nel giornalismo cioè noi non siamo qui con le magliette con le bandiere con le tifoserie cerchiamo di fare delle analisi allora io per esempio sulla questione putin la penso esattamente in un modo opposto ma non oggi io penso l'occidente per vent'anni abbia blandito putin è il grande amico di tanti ha dato posti al cancelliere teresco shredder l'ha messo alla guida del più grande e importante azienda dell'energia è stato amico e ricevuto da tutti i governanti italiani di qualsiasi colore quando si diceva che ha spianato la cecenia gli occidentali se ne sono fregati perché in quel momento il nemico il cattivo era il terrorismo islamico i poveri ceceni erano dalla parte sbagliata quando non hanno quando i giornalisti venivano assassinati quando c'era un problema di diritti umani non c'erano pressoché nessuna inchiesta su putin e quindi io penso e naturalmente tutto questo poi contribuisce alla nostra cattiva coscienza e questo l'abbiamo già visto con saddam l'abbiamo visto con italia e bani l'abbiamo visto in tanti l'abbiamo con ghe da fido l'abbiamo visto in tanti momenti in tante situazioni allora se si fa un'analisi si deve dire che putin non è che è stato stritolato sì certo adesso c'è una fase diversa ma per vent'anni e questo la politosca che ha scritto benissimo nel propone all'inizio il suo libro dice so che questo libro darà fastidio agli occidentali ma vi do una notizia putin non è quel quello statista buono che ai voti eccetera che voi considervi voi vi mettete a tacere la vostra coscienza perché dite beh stato votato quindi è come noi è come un presidente americano invece non è così allora questo è un punto il punto del ritorno dei nazionalismi perché chiamiamoli con loro nome e certo i buoni cattivi per me il nazionalismo è sempre un male e quindi è un male anche il nazionalismo ucraino e il battaglione azov e così via è la questione del papa la questione del papa è che tutte le agenzie universali e la chiesa cattolica lo è le nazioni unite lo sono sono colpite immortalmente quando arrivano sulla scena i nazionalismi per cui kirill tra essere un cristiano universale e un russo particolare dice io sono prima russo e poi cristiano ma così lo dice ma così lo dicono anche all'interno della chiesa cattolica gli arcivescovo di chiev e di leopoli quindi quindi il punto è che tutte le agenzie universali sono messe in crisi dal ritorno dei nazionalismi e tutta la fatica che dovrebbe fare la politica e trovare dei tavoli dove diversi nemici si siedono e si parlano tutto questo in questi due mesi è stato letteralmente spianato e portare anche nei nostri studi nelle nostre discussioni il dibattito buoni cattivi tifoseria mi a ruolo di qua no ecco ci vorrebbe da questo punto vista un'obiezione di coscienza intellettuale che allora sentiamo su questo